Il mondo è un covo di ladri e sta scendendo la notte. Il male rompe le sue catene e corre per la terra come un cane furioso. Il veleno ci ha infettati tutti. Nessuno si salva. Un giorno, alla nostra scuola di recitazione, arriva una ragazza. Avrà avuto circa una trentina d'anni. Mi prende da parte e mi dice Federica, io ho bisogno del tuo aiuto. Tu mi devi insegnare a fingere, come fanno gli attori. Io in ufficio ho dei colleghi stronzi, non ce la faccio più, sono esasperata. Ma non posso andarmene. Per questo sono qui. Perché voglio imparare a dissimulare, a mentire. Io la guardo. Non sapevo cosa dirle. Le uniche parole che mi sono uscite spontanee sono state mi dispiace ma io non credo che tu sia nel posto giusto. Il teatro è un viaggio verso la verità. Allora lei mi ha guardata con delusione e mi ha detto se è così non mi interessa. e se n'è andata. Io so che può sembrare strano, ma è grazie al teatro che ho imparato ad essere umana, ad essere me stessa. Facendo teatro ho imparato a conoscere meglio la vita, a esprimere quello che sento, ad accettare il cambiamento e un mondo sempre più diversificato. ed è proprio per questa ragione che oltre a fare l'attrice ho scelto di insegnare teatro. Perché il teatro ci aiuta a liberare la nostra autenticità. Ma non lo fa in modo diretto. Non arriva lì e ti dice dai Federica libera il tuo istinto, scatena le tue emozioni, dai tira fuori quello che hai dentro. Se facesse così farebbe una paura nera, non lo farebbe nessuno, manca un pazzo e lui lo sa. E ti frega, ti fa lavorare sul personaggio. Un'altra vita, un'altra storia, non sei tu. Sì, ma per mettere in scena quel personaggio tu devi mettere a disposizione tutto il tuo corpo, tutta la tua voce, devi scavare dentro di te per trovare quelle emozioni, quei sentimenti che possano rendere il tuo personaggio vero, credibile. Ricordo quando stavo lavorando al monologo della moglie ebrea di Brecht. Il regista a un certo punto mi chiede di fare questa cosa. Di rivolgermi verso il muro, di immaginare che lì ci sia mio marito, dal quale mi dovrò presto separare, e di dirgli la battuta come se stessi chiedendogli aiuto. Ok, mi rivolgo verso il muro, immagino che lì ci sia mio marito, e dico la battuta. Dal buio la sua voce, quello non è aiuto, devi dire la battuta come se stessi chiedendogli aiuto. Va bene, rifaccio. Quello non è aiuto, devi chiedere aiuto, devi chiedere aiuto. Va bene, rifaccio un'altra volta, non va bene. Inizio a cercare quella sensazione dentro di me, lui continua a incalzarmi, io rifaccio, sbaglio. A un certo punto qualcosa dentro mi prende il sopravvento. Mi rivolgo verso di lui e gli dico, non lo so fare, va bene? Io non so chiedere aiuto, non me l'ha insegnato nessuno. Scoppio a piangere. In quel momento mi rendo conto di non saper fare una cosa così semplice, così naturale. Da bambina avrò chiesto aiuto a qualcuno, ai miei genitori, ma per forza, se sono viva. Ma quella sensazione non riusciva a trovarla dentro di me. Probabilmente perché crescendo mi sono convinta che nella vita avrei dovuto sempre farcela da sola. Quel momento di verità aveva fatto scendere in teatro un silenzio assoluto. I miei compagni mi guardavano, chi con un sorriso, qualcuno con una lacrima. A quel punto il regista mi dice, va bene, allora il tuo compito per questa settimana è di chiedere aiuto. Fatti aiutare dalle persone, impara, ti servirà. E così, alla veneranda età dei 34 anni, Federica ha reimparato a chiedere aiuto. E fatto un passo avanti nella sua evoluzione. Tante volte nella vita, per essere accettati, per essere apprezzati dai nostri genitori, dai nostri amici, magari dai nostri insegnanti, abbiamo dovuto soffocare i nostri istinti, i nostri sentimenti, i nostri bisogni. E queste sensazioni, queste emozioni, che poi sono le più oneste, le più spontanee, rimangono sepolte in qualche angolo dentro di noi. E ci limitiamo a portare nel mondo soltanto quelle due o tre modalità che ci fanno sentire al sicuro. Ma quei sentimenti che chiudiamo in un cassetto scavano dentro di noi. E può succedere che a un certo punto esplodano e venga fuori in maniera incontrollata tutta la rabbia, tutta la delusione, tutta la frustrazione, tutto l'amore che ci siamo impediti di dire o di dare. Il teatro mi ha allenata a rimanere in contatto con le mie emozioni, tutte, quelle belle e quelle brutte. A conoscerle, ad accettarle, a dar loro una voce, a portarle fuori. Mi ha insegnato a dare valore al mio mondo interiore. E poi mi ha allenata all'empatia. Come si fa a interpretare il personaggio di un folle assassino come Hannibal Lecter? Dura. Beh, allora, innanzitutto non dovrei giudicare, che è difficilissimo. Perché noi nella vita siamo bravissimi a giudicare. È una delle competenze che alleniamo di più. Se ha fatto così è cattivo, ce l'ha con me, non valgo niente. E tutto questo ci allontana dal nostro personaggio, ma poi in realtà anche dalle persone e da noi stessi nella vita. Ecco, il teatro mi ha chiesto di non giudicare, ma anzi, di allenarmi a trovare quelle motivazioni per cui quel personaggio fa quelle determinate scelte, fino ad arrivare a pensare che io, al posto suo, avrei fatto esattamente la stessa cosa. Io non chiedo al ferito come si sente, io divento ferito. Questa è l'empatia. Quanto migliorerebbero le nostre relazioni quotidiane, ma pensate anche le relazioni nelle aziende, nelle organizzazioni, se fossimo allenati a non giudicare sempre e a metterci nei panni dell'altro. E poi il teatro mi ha allenata alla trasformazione. Che è una cosa difficile, perché in realtà il cambiamento spaventa sempre tutti, anche i più allenati. Fin da quando non sono entrati in accademia, a vent'anni, ero una ragazza molto esteriore. Ero molto preoccupata ad essere sempre bella, sempre truccata, sempre precisa, sempre brava, sempre apprezzata. Il teatro mi ha liberata da questa schiavitù e mi ha dato il permesso, mi ha autorizzata ad essere tutto ciò che mi va. Bella, brutta, giovane, vecchia, come quando giocavamo da bambini. Prendevi un asciugamano, lo giravi intorno al collo e zac, diventavi Batman. Io la stella della Senna. Mi piaceva. Però se l'asciugamano lo mettevi sulle spalle, in un secondo potevi diventare la piccola fiammiferaia. Se lo giravi intorno alla testa, facevi volare il tappeto. Ecco, per me la bellezza è legata a questa libertà, al poterti trasformare. E ne ho avuto prove in uno dei momenti più difficili della mia vita, quando ho dovuto curarmi per un tumore al seno. La perdita dei capelli è uno dei momenti più dolorosi per una donna in cura. Ma anziché guardarmi allo specchio, magari piangere e pensare quanto sono sfigata, ho chiesto al teatro di aiutarmi. Io sono un'appassionata dei film della Marvel. Antico è un mago potentissimo, maestro supremo delle arti mistiche e è una donna ed è pelata. Mi sono detta, lei è un personaggio potentissimo, conosce i segreti dell'universo, è consapevole della propria forza interiore, ha tutto dentro di sé. Per questo è così essenziale. E così per un periodo della mia vita ho scelto di esplorare l'essenziale. In casa mi sono vestita con delle tuniche, ho sfoggiato serena la mia testa pelata e ho cercato di lavorare dentro di me, in connessione con me stessa, a cercare la mia forza interiore. Ho preso ispirazione da un personaggio. Ecco, grazie al teatro sono riuscita a vivere con ironia un momento difficile, un momento doloroso. E quando riesci ad avere questo atteggiamento con una delle cose più spaventose che ci sia, la malattia, beh, penso che comunque vada, hai giocato una grande partita. Tante persone nella mia vita, quando hanno saputo che faccio l'attrice, mi hanno risposto, wow, beata te, ma allora tu sai fingere? Perché se sai fingere, secondo loro, beh, hai la vita spianata, hai una marcia in più, non ti esponi mai, nessuno nota mai le tue fragilità, le tue debolezze, puoi sempre apparire bello, forte, imperturbabile, cool. Per me questo è l'inferno. E allora, com'è il paradiso? Immaginate un mondo nuovo, una nuova era, un mondo dove l'educazione teatrale fa già parte della nostra vita, di tutti, fin da quando siamo bambini. ti alzi il mattino, ti prepari e vai al bar a fare colazione. Entri, il barista, Jack, ti dà il tuo caffè, ti guardi un po' intorno e può capitare che mentre giri lo zucchero con il cucchiaino fai un tin tin sulla tazzina e subito il tuo vicino ti risponde tin tin e poi si unisce quello dietro di cui non te ne eri neanche accorto con un bel tin tin buongiorno e immediatamente tutto il bar improvvisa una sinfonia meravigliosa, improvvisata tin 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 buongiorno tin 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 e tu esci che hai già il cuore aperto e dici ma che bella la vita, come sono contento e pensi che in fin dei conti quegli estranei sono proprio come te. Arrivi al lavoro oggi, giornata di quelle veramente, riunione col capo, si prendono decisioni strategiche per l'azienda, siete lì, tutti vestiti bene, intorno al tavolo, vi guardate e i primi dieci minuti cosa fate? Vi abbracciate, ciao, buongiorno Inizia a fare qualche esercizio di attivazione per stimolare l'ascolto e per essere pronto appunto ad ascoltare l'altro prima di avere bisogno di dire subito la tua e tutti si sentono accolti, si sentono apprezzati e lavorate insieme per creare qualcosa che abbia un impatto positivo, cazzo sono già le quattro, devo andare a prendere il mio figlio a scuola, vai, arrivi un po' trafilato, lui sale in macchina, lo guardi, è vestito come un punk metallaro disagiato, ti sale un nervoso, ti vorresti dire ma come cazzo ti sei vestito, ti sei visto, ma riesci a fermarti in tempo perché ti ricordi quanto soffrivi quando tuo padre alla sua età ti diceva esattamente le stesse cose, ma allora era un altro mondo, l'educazione teatrale non faceva ancora parte della nostra vita e e allora riesci a stare zitto, respiri, non vi dite niente, ma in quel silenzio riesci a sentire quanta fragilità, quanto coraggio e anche quanta bellezza c'è in un momento della vita in cui hai bisogno di essere accettato e di trovare te stesso. la giornata scorre veloce, arriva la sera, ti prepari per andare a dormire, entri in camera, tua moglie dorme già da un pezzo, ormai i bei momenti in cui facevate l'amore fino a tardi presi dalla passione sono un lontano ricordo, ti sale la malinconia, ma guardi dormire, non vuoi ferirla, le vuoi bene, però il teatro ti ha insegnato che puoi dire quello che senti, quello che provi, va bene, allora domani glielo dico che la desidero ancora e lei saprà ascoltarmi. E se litighiamo, pazienza, a volte è necessario per ritrovarsi, vai a chiudere le finestre, butti un occhio ancora sul tuo quartiere, ci sarà ancora qualche luce accesa, pensi che sa che ci sarà dall'altra parte di quelle finestre e ti viene, ti viene di lanciare così nell'aria un bel buonanotte, buonanotte, notte, notte, e mentre ti stai per addormentare, lì tranquillo, ti torna in mente quella fase di Bergman che dice il mondo è un covo di ladri e sta scendendo la notte, il male rompe le sue catene e corre per la terra come un cane furioso, il veleno ci ha infettati tutti, nessuno si salva, perciò godiamoci la felicità mentre siamo felici, concediamoci di essere gentili, generosi, affezionati e buoni, è necessario e niente affatto riprorevole provare piacere ed essere felici nel nostro piccolo mondo, il teatro. Grazie.